Abbiamo visto in questi ultimi mesi un'accelerazione dei flussi migratori sulle coste dell'Italia ma anche con l'attivazione di altre rotte migratorie. La rotta libica è stata quella finora privilegiata perché si entrava sia dal Sina in Egitto sia da Agades, dal Niger nel sud della Libia si approdava sulle coste libiche e da lì si raggiungeva l'Italia. È un flusso che è stato più o meno regolare in questi anni con dei picchi ovviamente nei periodi estivi quando il tempo è ritenuto migliore per le traversate. I flussi si sono moltiplicati esponenzialmente negli ultimi tempi e diciamo che c'è stata anche una diversificazione delle rotte attraverso le quali queste persone arrivano da noi. Che cosa è avvenuto di qualitativamente diverso? La prima cosa che possiamo notare è l'acquirsi di alcuni conflitti che sono sempre stati ma che hanno conosciuto negli ultimi mesi un'accelerazione sto parlando per esempio della situazione in Eritrea che si sta degradando direi quasi di giorno in giorno e quindi espelle dal suo territorio migliaia e migliaia di giovani anche lì con delle contraddizioni di un governo che da un lato crea le condizioni per l'espulsione di questi giovani dall'altro percepisce da questi migranti una volta che si sono regolarizzati una iniqua tassa che devono versare allo stesso governo che li ha espulsi. La cosa invece che non viene presa sufficientemente in considerazione è ciò che è diventato il sud della Libia ciò che è diventato il nord del Malì ciò che è diventato il sud dell'Algeria ossia quel confine del deserto che parte quindi dall'oceano atlantico che arriva fino quasi all'ambire l'oceano indiano cioè questa striscia desertica che è diventata terra di nessuno dove imperversano i movimenti fondamentalisti, integralisti ma soprattutto stanno imperversando le bande di crimine organizzato che lavorano, lucrano ovviamente sui traffici tradizionali di queste bande la droga per cui l'Africa occidentale è diventata la principale porta d'ingresso della droga proveniente dal Sud America che poi da lì transita verso l'Europa ma soprattutto il business dell'immigrazione è diventato anche lì un business estremamente organizzato estremamente lucroso ben controllato da queste bande che infestano in questo momento il deserto del Sara e quindi sono bande che a un certo punto non lavorano solo su quei ragazzi giovani che vengono da paesi in guerra ma in qualche modo lavorano anche sulla massa migratoria che da sempre ha spinto verso il Sud e che trovano in quei trafficanti le persone che stanno in questo momento facendo più business sui migranti che sui traffici tradizionali che hanno sempre investito quelle aree del deserto del Sara si potrebbe riassumere in questo modo il desiderio di immigrare in Europa è un desiderio spontaneo da parte di questi migranti siano che vengono da paesi in guerra che da paesi invece dove c'è la povertà ma il meccanismo le procedure chiamiamole così perché sono procedure criminali non sono procedure normali attraverso le quali si imbarcano in queste navi sono procedure estremamente organizzate dalle rette ben oliate con degli interessi ramificati in Africa e in Europa io intanto approfitto della domanda su che cosa dovrebbe fare l'Europa per porre una questione che mi sta molto a cuore è vero che è un problema europeo dal punto di vista dell'organizzazione della sua accoglienza e soprattutto la creazione di processi attraverso i quali queste persone vengono non solo identificate ma soprattutto accolte e avviate in un processo di integrazione su questo punto non ci piove e il dovere dell'Europa lo deve fare e non può nascondersi dietro le cifre perché ci sono delle aree territoriali del mondo che hanno popolazioni e territori più piccoli e che stanno accogliendo i profughi il problema invece che mi sta a cuore che vorrei porre è che come mai non c'è stato ancora un vertice straordinario dell'Unione Africana sulla questione dell'immigrazione è un dramma che stiamo denunciando da anni la situazione è diventata sempre più critica i giovani che arrivano sempre sono sempre più giovani in preda appunto di queste bande criminali la reazione africana istituzionale intendo dire non delle famiglie che vedono morire i loro giovani ma quella istituzionale mi sembra una reazione di occultamento di un dramma che sta avvenendo e che riguarda i loro figli in poche parole non può esistere che un figlio esce da casa e perché fuori da casa la famiglia se ne disinteressa mi pare che è una questione questa dell'immigrazione europea ma anche una questione prevalentemente africana che si deve interrogare come mai 50 anni dopo le indipendenze questi territori sono sempre più mal controllato e sono diventati dei territori di espulsione della forza più giovane più forte più promettente di questi paesi questo è secondo me una riflessione che va fatta l'unione africana non può non farsi carico di problemi che riguardano la parte più giovane e anche più sana più robusta c'è una specie di selezione naturale che sta avvenendo all'interno delle popolazioni africane perché tutti sappiamo che a concepire un progetto migratorio a metterlo in pratica a raggiungere le coste dell'Europa a poterlo fare sono quelli più scaltri quelli più dotati anche di risorse sia umane che finanziarie per poterlo fare questo è quello che spetta l'Africa spero davvero che i dirigenti africani si mettano la mano sulla coscienza e non si accontentino di puntare il dito contro la non accogliente Europa l'Europa ha la sua parte di responsabilità ma l'Africa a mio avviso deve prendere anche lì in seria considerazione questo drama che si sta consumando non fosse altro che perché riguarda la parte del suo futuro che in questo modo viene vanificato che cosa fa l'Europa? cosa dovrebbe fare? intanto l'Europa dovrebbe prendere consapevolezza che 500 milioni di abitanti possono tranquillamente secondo me in modo ordinato in modo programmato assorbire un flusso di 100 150 mila anche 200 mila persone che cosa dovrebbe fare? che cosa non ha fatto nel passato? quello che sta succedendo partecipa un po' di una specie di miopia e di città collettiva che ha colpito l'Europa l'Europa non è una isola che può galleggiare sull'oceano mondo senza guardare ciò che avviene altrove anche perché in ciò che sta avvenendo altrove ci sono delle precise responsabilità dei paesi europei prendiamo il caso dell'Inghilterra che è stato il paese che insieme alla Francia dopo la caduta dell'impero ottomano ha sconvolto la carta del Medio Oriente creando stati che non c'erano spartendosi il territorio del Medio Oriente ora l'Inghilterra oggi non può far finta di nulla non può girarsi dall'altra parte e dire che il Medio Oriente oggi non mi interessa in quello che sta avvenendo c'è una parte di responsabilità dell'Inghilterra una parte di responsabilità dell'Europa che cosa dovrebbe fare? dovrebbe guardare sulla lunga scadenza lavorare ancora più impegno e determinazione a ristabilire le condizioni di pace in questi paesi alcune di queste guerre sono state determinate da sciagurate decisioni dei paesi occidentali sto parlando della guerra in Iraq stiamo parlando della guerra in Libia soprattutto del 2011 dove si è scatenato un conflitto senza sapere quali sarebbero stati gli assetti che sarebbero scaturiti da questo conflitto il risultato è che l'arsenale libico si è riversato tutto sul Sara sul deserto del Sara armando le bande e creando condizioni di instabilità che sono fattori di espulsioni e quindi fattori di migrazione quindi lavorare di più sulla valenza della pace come un investimento di stabilità e lavorare di più sulla cooperazione questo non è uno slogan perché laddove si restituiscono condizioni di vita migliori per quei territori per quei paesi attraverso la cooperazione attraverso la partnership economica e sociale attraverso creazioni di possibilità in questi paesi noi abbiamo assicurato stabilità e abbiamo frenato i fattori di espulsione da questi paesi finché non faremo questo lavoro a lunga scadenza e considerando che l'Africa non può riversarsi tutta sull'Europa non abbiamo alternativa rispetto all'opzione della cooperazione